La cultura crea indotto, influisce sul turismo, rende il territorio più ricco. Nel Veneto di Cultura e Spettacolo si occupano 40.000 imprese con una ricaduta economica dell'8% sul PIL regionale. Per questo assumono un particolare interesse le opportunità prospettate dal PORFESR, Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per un totale di oltre 900 milioni, il cui bando uscirà tra pochi mesi. È un momento, direi, molto importante e strategico per la cultura del Veneto, perché per la prima volta la nostra regione ha inserito nel Programma Operativo Regionale, nell'azione delle imprese, anche le imprese culturali. I dati che noi siamo riusciti a raccogliere hanno testimoniato e hanno confermato la sensazione che noi già avevamo e anche la conoscenza che avevamo già del territorio, cioè che il nostro territorio è un territorio estremamente ricco di imprese culturali e i dati hanno confermato questa realtà. 40.000 imprese, quindi una piattaforma di imprese culturali che non poteva essere trascurata. Ecco, chi potrà partecipare al bando quando uscirà? Allora, al bando quando uscirà, e usciranno i bandi tra fine aprile e maggio, diciamo potranno partecipare tutti coloro che svolgono attività economica nell'ambito della cultura, intendendo attività economica nel senso più ampio del termine, l'eccezione che dà l'Europa, cioè tutte quelle associazioni, istituzioni, fondazioni che creano e che hanno, creano attività economica, anche non con scopo di lucro. Ovviamente non enti pubblici, enti privati, del mondo delle attività culturali e dello spettacolo, ma anche dei beni culturali. A Verona sono 238 le realtà aziendali, iscritte al registro imprese, impegnate in attività di intrattenimento, creative e artistiche, e operanti in biblioteche, musei, archivi. Il bando è rivolto a imprese private, start-up creative e al consolidamento di imprese esistenti. Sono previsti aiuti per investimenti in macchinari e impianti e accompagnamento dei processi di ristrutturazione aziendale in crisi. Questo è un fondo europeo che è rivolto soprattutto all'impresa che opera in ambito culturale in tutti quelli che sono i servizi che si ricollegano poi alla filiera del turismo, quindi anche lo spettacolo, arti visive e tutto quello che ne consegue. Ed è un percorso molto interessante soprattutto perché oramai è chiaro che anche il privato ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della ricchezza ma anche del lavoro che si genera in questo ambito. Il 16 marzo uscirà poi un bando di 1,8 milioni di contributi per gli investimenti in innovazione tecnologica stanziato dalla Camera di Commercio.